HumanSum è un nuovo marketplace dedicato ai freelancers e all'agenzia di comunicazione in tutto il mondo che risolve un problema fondamentale che è quello della verilicità dei curricula e quindi delle skill di ogni singolo professionista che si propone per un progetto. Come funziona? È un cross model, così si dice, tra Uber e TripAdvisor, nel senso che la società o l'agenzia di comunicazione propone un brief per un determinato progetto e sceglie, schiacciando solamente un pulsante, un suo team per la realizzazione del progetto. Questo permette di anche cambiare ogni singolo soggetto del team in ogni momento, qualora il professionista non fosse in grado di procedere o semplicemente non fosse più gradito all'agenzia o all'illiente e permette anche di ridurre i costi e il tempo di costituzione del team e rende flessibile anche la struttura della società. Grazie